Sono arrivato in questa sala consigliare, tra parentesi, splendida, e ho trovato questo ambiente che è galvanizzato da questo risultato. Gemona è città dello sport, come si chiamava, si chiama Land Sport, però questa vittoria in Coppa Italia ha di fatto ridato ulteriore entusiasmo a un movimento che è già molto molto di per sé attrezzato e organizzato. Da parte mia chiaramente ho reiterato quello che è l'intenzione del Comitato regionale di valutare tutte le candidature per le finali di Coppa e sicuramente la proporò al mio consiglio. Poi la decisione sarà collegiale. Certo è che l'entusiasmo che ho visto oggi è sicuramente il corroborante più importante per tutto il nostro movimento, per tutto il Comitato, perché vedi che c'è questa grande fame, passami il termine, di calcio e di balon. Supercoppa a maggio decideremo come è successo per la finale di Coppa. Ho già avuto l'ok da parte dell'Udinese Calcio. Troveremo una data importante. Ho raccolto, anzi raccoglierò l'invito del sindaco qui di Gemona per magari allargare l'invito a qualche amministratore di queste zone che purtroppo stanno ancora subendo questo terribile evento che è il terremoto per dimostrare concretamente quello che è la nostra vicinanza e quella che è la nostra solidarietà. La Gemonese è stata l'unica società a livello di Comitato regionale che pur di non perdere i suoi tesserati ha creato una seconda squadra che si chiama Glemon appunto che fa la terza categoria. È una delle idee che però come giustamente il Presidente Preto ha fatto ben notare a dei costi perché comunque sono due matricole diverse, sono due società diverse con due Presidenti diversi eccetera. Quindi l'idea sarebbe magari quella di ragionare su quello che potrebbe essere un campionato under, quindi sostituzione di quello che potrebbero essere in questo momento gli uniori, magari alzando l'età, portandolo a 21, 23, under 21, under 23 per far sì che questi ragazzi praticamente una volta che escono degli allievi abbiano ancora la possibilità di rimanere in fede del calcio e soprattutto di disputare dei campionati che sono dei campionati comunque importanti a tutti gli effetti. Presidente, torni a dormire con la moglie oppure a letto ci sono ancora solo le coppe? Adesso torno a dormire con mia moglie ma diciamo che oggi è la chiusura di questa sette giorni diciamo calcistica che abbiamo vissuto in città dove tuttora mi fermano e mi dicono complimenti Presidente. È stata una bella giornata anche oggi, un riconoscimento che l'amministrazione comunale ci ha voluto dare e veramente ringrazio di cuore tutti gli intervenuti e ringrazio di cuore il sindaco e l'amministrazione comunale per la gratificazione che ci ha regalato. La Coppa Nazionale ci vede un po' purtroppo giù perché diciamo che le squalifiche che abbiamo ricevuto dopo il burrascoso finale di Manzano forse ci vanno a prenalizzare. Però abbiamo come ho detto prima anche durante la riunione abbiamo queste partite da fare senza quattro squalificati ma ce la metteremo tutta comunque per riuscire a fare del nostro meglio e portando il Friuli in alto. È chiaro che ci saranno delle difficoltà insomma. La Rosa mi piaceva dare un segnale, dopo è chiaro che sia la Rosa che l'allenatore che lo staff perché comunque questa gratificazione della Coppa Italia, la società deve mandare un segnale perché hanno fatto tanto, hanno lottato, l'hanno tolta proprio dalle più... Ecco e quindi ho voluto dare questo segnale. Per noi sono tutti confermati. Adesso è chiaro che da qua a maggio succedono tante cose, ci sono richieste, il mercato purtroppo è fatto anche di denaro e quindi speriamo bene. Adesso io col prossimo anno chiederò a tutti chi ha giocato, chi ha fatto parte della Gemunese anche negli anni passati ma anche negli anni più difficili, quelli post terremoto, ci sono state purtroppo diciamo tante fotografie perse con il terremoto perché purtroppo quella volta lì si è persa tanta documentazione che io ci tenevo tanto ad avere e faccio subito un appello a tutti i giocatori ex che militano in Friuli, ce ne sono tantissimi che hanno foto, ricordo o quant'altro la prossima anno rinizieremo una raccolta perché per il centenario vorrei allestire proprio qua vicino Palazzo Elti una mostra fotografica con tutti i più bei ricordi di questi cento anni di vita. È chiaro che per noi è una soddisfazione enorme, sono fiero ed orgoglioso naturalmente come sindaco ma soprattutto credo che fieri ed orgogliosi devono essere i ragazzi, il presidente e tutto lo staff della Gemunese Calcio che in cento anni di storia non aveva mai raggiunto un risultato così importante e credo che però sia di buon auspicio anche per il nostro progetto che ha mosso i primi passi in questi anni, che ci sta dando grande soddisfazione anche sotto il profilo economico e quindi credo sia veramente un valore aggiunto per tutta la comunità di Gemone e di questo ringrazio naturalmente la Gemunese. Sindaco ha messo tanta carne al fuoco oggi, ha parlato della possibile organizzazione della finale dell'anno prossimo qui a Gemona 6 gennaio, Supercoppa, addirittura il gemellaggio possibile con le popolazioni terremotate al centro Italia. Ci racconta un po', ci spiega un po' quali sono le sue idee a riguardo. Io credo che Gemona, capitale del terremoto del 1976, oggi non possa non essere in prima fila nel dare una mano a chi sta vivendo lo stesso dramma di 40 anni fa. Le popolazioni dell'Italia centrale hanno bisogno del nostro aiuto così come abbiamo avuto noi bisogno del loro aiuto 40 anni fa e credo che anche lo sport possa fare una parte importante. Devo ringraziare naturalmente l'Udinese Calcio che mi ha dato la possibilità in occasione della partita con l'Inter di lanciare questa campagna dell'acquisto del poster per fare un'operazione con il comune di Amatrice nella costruzione di un impianto sportivo. Io credo che anche tutto il movimento calcistico e anche quello dilettantistico in particolare possa avere un ruolo importante così come la città di Gemona e gli altri comuni del Friuli nel portare avanti un'operazione di solidarietà che in questo momento è veramente la possibilità di restituire seppur in piccola parte la grande solidarietà che noi abbiamo ricevuto. In questo senso credo che a maggio di concerto con la federazione in occasione della Supercoppa allo stadio Friuli faremo questo invito alle comunità dell'Umbria, dell'Abruzzo, della Lazio e naturalmente di tutti i paesi dell'Italia centrale a essere qui con noi a condividere questo nostro momento di gioia che per loro può essere un momento di sollievo delle sofferenze che in questo momento stanno patendo ma credo che l'occasione del prossimo talero del 6 gennaio accanto alla solidarietà ci metteremo anche lo sport perché è il futuro di questa comunità e io spero che veramente il presidente Canciani si faccia parte attiva nel portare il 6 gennaio del prossimo anno qui proprio a Gemona alla Coppa Italia potrebbe essere un bel abbinamento un bel pacchetto culturistico con la messa del talero con la finale di Coppa Italia ma soprattutto anche un'operazione di solidarietà importante per i paesi dell'Italia centrale. Ultimo aneddoto, la domenica il primo risultato che guarda è quello dell'Inter o quello della Gemonese alle 5 del pomeriggio? Diciamo che sono solo tifoso dell'Inter, non sono un grosso appassionato di calcio pertanto seguo la partita dell'Inter non tutte le domeniche ma naturalmente visto i tanti amici che ho nella Gemonese vengo subito messo all'occorrenza, diciamo così, aggiornato su quello che sta facendo la squadra della nostra città di cui in questo anno in particolare sono particolarmente orgoglioso ma l'ho sempre seguita anche negli anni passati non solo devo dire la Gemonese ma anche tutte le società che operano nel Carnico e in altri ambiti perché credo che davvero Gemona, città dello sport, possa essere un fioro all'occhiello non solo per i risultati sportivi ma anche per quello che sta facendo per il movimento sportivo in generale a livello regionale e anche nazionale. Mister Pitilino, finiti i festeggiamenti, adesso bisogna di tu farsi in campionato e poi in Coppa. Intanto, come avete passato questa settimana? C'è stato anche recupero? Cosa avete combinato? Come vi siete... cosa avete fatto? Allora, beh, intanto la martiria pariata col Chions, devo dire che i miei ragazzi, visti i giorni passati, sono stati bravi ad affrontare in maniera corretta una partita che presentava più la difficoltà a parte l'avversario che è di per sé molto tosto. Poi questi due o tre giorni siamo riusciti a allenarci perché avevo dato due giorni liberi, ieri nevicchiava ma stamattina abbiamo fatto allenamento, abbiamo preparato quella che per noi domani è una partita decisamente importante su un campo molto difficile contro una squadra davvero forte. Quindi ci aspettiamo una gara molto molto impegnativa. No, francamente no, non ho informazioni, non le ho ancora cercate perché la prossima partita è il Lumignacco, quando poi avrò un attimo di tempo e quant'altro cercherò di capire anche cosa sono il Trento e la Claudiense, ma mi pare che siano due corazzate di non poco conto. Dopo la finale ho fatto molta fatica a dormire, l'adrenalina è ancora tanta, ho festeggiato con la squadra fino a una certa ora, poi con un amico che è venuto dalla Svizzera a vedere, con degli amici che sono partiti dall'Austria e in famiglia e poi dal giorno dopo ho cominciato a realizzare quello che io assieme alla squadra e alla società eravamo riusciti a fare e me la sono goduta. Però ecco, come dico sempre, i miei ragazzi di calcio è futuro, quindi si pensa domani.